eccoci qua pronti per questo nuovo pronti pronti e facci massacrare gli zombie rottingulo da fare su un game ecco come si giocava anche qualche guardava i soldi prendere se non sbaglio qua ci sono anche i runner dopo facciamo attenzione dai ma i soldi sono insieme oppure ognuno per sé insieme bene 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 ah niente bene ho sbagliato io sbagliato io scusa my bad si cambiava arma ok in un modo nell'altro l'armato ora abbiamo arrivato se è invisibile agli zombie oh ma questo non muore mi sa che sono più resistente ora di zombie bene è già la seconda notte ma prendono tanto quando si avvicinano la cosa cosa pensavo che aveva uno zombie ho preso una cazzo di paura 1 io metto pick up range no movimento vuoi essere più bellosini speed no no non l'ho plantate sono ritardato soldi graficamente è fatto bello come gioco non è che ci siamo da vedere aiuto guardate il 2000 guarda quanti soldi siamo wiki esatto la mina quindi stanno fammi perchè non me ne fatti guarda line che sto plantando guarda nex vieni a vedere cazzo bella mi piace quanto costa la tua ricetta 6.000 9.000 La Marche 2 Vediamo che costa 9.000 in saldo Ma si mettiamola Faccio io? Sì sì vai La mettiamo Mettiamola Mettiamola Ok Aspetta Solo un secondo Ok possiamo andare Abbiamo pochi soldi Eh sì cerchiamo di usare la pistola per quelli più scorsi Ma donna Ok la mina ha fatto effetto da me La mina sta facendo fin troppo effetto Oh cazzo Portiamoli vicino alla trogetta Portiamoli vicino alla trogetta Penso che ce la fanno Per andare e faccio qualcosa per te Ma la Toretta non spara Che bello Mounta weapon tu arm de tu Vaffanculo Andiamo? Sì Ho messo un po' di mine Cazzo mi ho messo dopo su sto punto Ok le mie mine hanno fatto Come funziona adesso Ora si Non mi prenderai mai Cazzo ho poca vita Com'è possibile? Eh prenditi al reggio Ok ho fatto ho fatto Oh dio Ma perché c'ho la shotgun Ah perché cosa ce la prendi in cugno lo sai Ben ma Ok dove è la shotgun? Ok Io ti devi rimanere dentro Oh 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 Come vovano Aiuto La Toretta neanche riesce a prendersi Oh ma dov'è la motoseida? Un documento a destra Oddio Oh Attenzione Sumato apposto Sì lo so Ma è poi che HP vero? Per il reggio Ok Ho disparo Che hai comprato? Ho sbagliato Hai comprato il lanciafiamme Sì Tu ce l'hai anche per lì Sì No io c'ho la motosega No la motosega mi piace troppo Non funziona una cosa Uh speed boost Eccolo Guardami Non ti vedo Due granate Le granate come si usavano? Pisto C'è il suo Ah con G forse Le granate Oh Ho fiuto Contra di da me Contra di da me Tu l'hai Tu l'ate Tu l'ate E' Flank Tower Trover Che che scrive? Attenzione Oh Gio Oh Gio Non mi spara più Perché ho finito Dove più Perché ho finito Gio Gio Udio Sono l'oro spawn Sono Gio Gio Piatta che So forse prendiamo la torretta no la torretta no la torretta finita ma dove sono niente mia armi non ci so più oddio oddio motosega motosega no zio no 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 no, qua ci arano, qua ci arano perchè sono rimasti dentro? ci arano dentro? io sono morti unica speranza di sopravvivenza eh, derralto invulnerabilità, vai 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 bella in clave, bella, bella ahahahahahahah ma cazzè sono così mortali ma sono immortali sono anche più veloce del solito oddio le granate oh oh ah bello, ho perduto tempo a dire le granate sono morto, sono morto, qua sono morto no, sono morto no, qua sono morto oddio 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 sei la nostra unica speranza è una madonna, beh oh, invisibilità no vado a prendere se riesco 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 oddio non c'è più, non c'è più gumo no, non sono culo, sono sono zombie eh beh sei sicuro? buttiamo speranza alla pistola ciao papà cazzo è oh è una sparaggioria e la pistola da soft tail sta usando contro i zombie beh potrebbe grandissimo no è il point mettiamo cp ht asso il rifle bene minchia 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 ma c'è lo cazzo fasso le lodi mi stanno a far pena i zombie sai a me no oh aiuto oddio ma io sono morto il nuovo mi porto sulle mille no non mi dite che sei morto no ho finito copia adesso le munizioni 2 energy perfetto sono fini? basta no no aspetta dove sono? eh eh guarda vai verso il centro tranquillo basta che vedi motosega se apposta ah no la motosega funziona a benzina congo ma fateli fateli portare un po' in giro vada faccio la trottola con la motosega non so che riesce mi piace un po' imbessito da te ma li devo allontare oddio ci siamo chiamati e siamo portati a bicicletta oddio ora appena finisce il round lascia il follow poco oh zio ma mica sei morto no no praticamente ho salvato l'economia del prossimo round tipo quattro casse nel dato di munizioni e mille basta che non sei morto no non sei morto aspetta che ci sono soldi soldi ok hell points close e andiamo e non sei torre prima è stato barricarci con quella ondata quando facciamo la barricata dobbiamo essere troppo attaccati uu� oh ok oh 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 uh 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 No Simozzi è fatto Ma tu sei morto Sì Tutto nelle tue mani Eh ma sono morto qua Fa niente Dai che ce la vuoi fare Dai che ce la vuoi fare Dai che ce la vuoi fare Stendo dietro Premi G Premi G Premi G E poi scappa subito Oh Andare un pochettino Per risolvere le ponde Vai accidi Accidi Ok Non fare cazzate E di che scompaiono le casse Prendete subito Sono scomparse No poi sono i 2.000 Camo? Best level Sì Guarda io sto al centro sicuro Tu stai fuori E sti cazzi Non ci metti Quanto cazzo Sono veloci No ma io scappo fuori anche Non ce l'ho vista Perché varcevo un pollo Oddio Ho preso le mine Ho preso una cassa di mine Perfetto David Non l'abbiamo plantata prima Ma sono stati agili ori Cazzo cazzo Ma hanno chiuso Feed boost Sono morto Oh Oh Io prendo health regen Che mi serve Ma sono raffo Oh Ma meno male che l'ho detto Oddio Le mine Mottiamoli su le mine E presto Rigenerazione salute E salute in più Quindi posso fare il tempo Cioè guarda Come li sto tenendo Con la moto sega No la nostra base È fottura Andiamo a salvare Sei rimasto solo C'è un coglione E tutto quello che abbiamo fatto In quattro round Di ripresa Ce ne siamo fottuti Sì Abbiamo preso tutto No No non possiamo i Ah quindi abbiamo fatto 15 notate E 1.211.000 Di punti Buono dai Buono dai Buono dai Grazie.